Ciao, sono Zan di Turbola.it. Queste sono le novità in campo Bitcoin e criptovalute per il 13 luglio 2018. Seguimi! Bene ragazzi, la prima notizia di oggi riguarda i prezzi. Abbiamo visto un pochino di rosso durante tutta la giornata odierna. Ci sono un paio di player, in particolare Nulls, che hanno continuato a fare molto bene oggi, però in linea di massima il sentimento del mercato è sicuramente verso il basso. Infatti la maggior parte dei player ha perso percentuali abbastanza importanti. Come sempre è Bitcoin che trascina giù tutto il mercato con una perdita di circa il 3%. La cosa che però mi preoccupa, tra virgolette, per il breve periodo, un pochino di più, è il fatto che la dominance di Bitcoin sembra continuare a salire invece di scendere. Come sappiamo, quando la dominance di Bitcoin tende a salire, significa che tutte le criptovalute alternative stanno scendendo di valorizzazione perché c'è un po' di paura nei mercati. Vediamo che, contrariamente a quanto mi aspettavo, ultimamente la dominance sta salendo e ha già superato il 43%. In questo momento non ci sono indicatori né in un senso né nell'altro. Se il trend del mercato rimarrà discendente ci aspettiamo che questa dominance continui a salire. Prima di poter rivedere una ripresa del prezzo sarà necessario che le criptovalute alternative ricomincino a guadagnare quote di mercato. Come abbiamo detto, l'andamento di Bitcoin è negativo. Il prezzo, se guardiamo i grafici, si attesta secondo le stime di Trending View attorno ai 6.175. Trending View che prende i dati da Coinbase, 6.175 dollari al pezzo. Siamo quindi su valori piuttosto bassi e, in particolare, se guardiamo la linea rossa che ci dice appunto a che valori siamo, siamo fondamentalmente ritornati al prezzo che avevamo visto lo scorso, fine inizio novembre, fine ottobre 2017. Quindi siamo tornati molto indietro come capitalizzazione di mercato per il Bitcoin. Per quanto riguarda il trend di immediato, quindi il trend di brevissimo periodo, in questo momento non c'è, non ci sono molti supporti in vista. Vediamo un pochino dopo che cosa ci dicono le analisi anche degli specialisti di CoinDesk. In particolare, guardiamo un po' le previsioni che si fanno appunto su Trending View. Il sentiment, quindi il sentimento prevalente, in questo momento rimane di tipo sell, quindi ci si aspetta un andamento negativo perlomeno sul breve periodo. Questo chiaramente non ha nessun valore importante dal punto di vista dell'andamento, però ecco ci aiuta a capire un pochino qual è il sentiment generale di chi fa analisi tecnica. Appunto, chi fa analisi tecnica come appunto CoinDesk. Ci ricordano che oggi è stato neutralizzato l'andamento bullish sul brevissimo periodo e siamo ritornati in una situazione di discesa. In particolare se i tori non riusciranno a riprendere il controllo sugli orsi, quindi se non si riuscirà a difendere il prezzo attuale, e non è da escludere che si possa ritornare sui prezzi che abbiamo visto il 24 giugno, dove c'era stato un minimo relativo a 5.755 dollari. In particolare siamo tornati in pieno Trending discendente perché tutte le medie mobili sono perfettamente allineate, quindi sono tutte verso il basso con la 50-100-200 in progressione, quindi indicatori forti di prezzo discendente anche dal punto di vista grafico. L'unica cosa che potrebbe invalidare questo trend negativo, nota l'analista giustamente, è che c'è la possibilità di un testa e spalle inverso, c'è quindi un segnale possibilmente rialzista. Perché questo si verifichi però è necessario che in tempi rapidi, appunto ci dica l'articolista, possa esserci una ripresa appunto al di sopra dei 6.800 euro. In caso si scenda invece sotto i 6.000 con una chiusura secca, ci potremmo aspettare una continuata discesa di prezzo, perlomeno nel breve periodo. Bene, venendo alle notizie, in generale non c'è tantissima negatività, non ci sono vere notizie negative che possono far credere che siano cambiate i fondamentali. In particolare ho letto solo cose positive. Partiamo appunto da questa buona notizia, è che la criptovaluta Byteball ha stretto una partnership con Steam e ci sarà un airdrop. Cosa significa? Che tramite appunto Byteball, che funge un po' tramite i suoi oracoli a connettore del mondo digitale con quello del mondo reale, è possibile avere un attestato Steam di identità. Quindi tutti i blogger che utilizzano la piattaforma steemit.it possono richiedere di, diciamo, certificare la proprietà del proprio account. Quali sono i vantaggi di farlo in questo momento? Beh, innanzitutto c'è la possibilità di accedere a degli sconti, una serie di cosine interessanti per chi ha un reputazione su Steam it molto alta e poi c'è appunto un airdrop in vista. In particolare ci sono queste, diciamo, questa gratifica in denaro che è appunto via via sempre crescente a seconda di quanto è alta la propria reputazione attestata su Steam it. Altre notizie positive. Il reddit di Substratum ha superato i 14.000 iscritti, quindi un numero molto positivo. C'è anche ovviamente chi si lamenta, come al solito, dei prezzi che continuano ad essere piuttosto bassi ed è stata una buona risposta da questo appassionato che ci ricorda che a partire dalla versione 0.5.0 di Substratum, quindi del nodo che dovrebbe essere rilasciato a breve, verranno appunto attivati, diciamo, le ricompense per chi ospiterà appunto i siti sulla piattaforma Substratum. Quindi in linea di massima potremmo assistere ad un'inversione netta del prezzo se ci sarà anche un'inversione del prezzo di Bitcoin. Substratum è uno delle criptovalute che sto tenendo d'occhio per una possibile esplosione di valore anche proprio grazie a questa novità della prima versione realmente completa o quasi tale del programma da installare sui nostri PC. Lo tengo d'occhio da vicino. Buone notizie anche per Brave, quindi il browser che ci attende all'iniziativa Basic Attention Token hanno superato i 3 milioni di utenti attivi e hanno fatto anche il 10, sono entrati nella top 10 del Play Store in 21 paesi. Quindi una buonissima notizia per il browser di BAT, Basic Attention Token, quindi di Brave. Se vi interessa saperne di più su Basic Attention Token e su BAT, vi ricordo che seguendo questo indirizzo, turbola.it barra 1572 potete leggere la mia review su turbola.it dove in generale mi piace molto il succo e che mi è piaciuto molto Brave ma vedevo dei problemi di adozione soprattutto perché si va a scontrare con Google, con il suo Chrome, con Firefox e tutti gli altri in ambito desktop. Quindi c'è stata una buona notizia che è un po' invalida la mia perplessità, speriamo che riescano appunto a mantenere il punto e il posizionamento. Venendo a notizie meno felici, la CNBC ci ricorda che il debito mondiale ha superato i 247 triliardi di dollari, quindi una cifra enorme. In particolare siamo oltre il 318% del debito rispetto al denaro in circolazione. Cosa significa? Significa che c'è tre volte più debito in tutto il mondo che non denaro in circolazione. Quindi una notizia veramente positiva che lascia molto perplessi circa l'andamento dell'economia tradizionale. Altra buona notizia, altre criptovalute sono state aggiunte appunto a Robinhood, quindi alla piattaforma di investimenti internazionale che va per la migliore anche perché non ha fee, non ha commissioni. Robinhood ancora non è disponibile nel nostro paese, però in America va molto forte, quindi questa è una buona notizia. Ci sono appunto Litecoin, Bitcoin, Cash, oltre al solito Bitcoin. Altra notizia importante per il futuro di blockchain è appunto che il 18 luglio, quindi fra pochi giorni, si riunirà un comitato americano per valutare il futuro delle monete digitali, e quindi della digital currency, come sono appunto le criptovalute. Cercheranno un pochino di capire questo comitato, se possono avere uno spazio all'interno del mercato tradizionale monetario dell'economia reale. Altre notizie meno positive invece. Un report stilato appunto da questo Satis Group ci rivela che più di tre quarti delle ICO si sono rivelate essere delle vere e proprie truffe, quindi niente di più, niente di meno. Questo fa il paio un pochino con il video che ho realizzato l'altro giorno, con l'avvertimento di fare estremamente attenzione quando si parla di ICO, perché la truffa è dietro l'angolo e anche la possibilità di perdere dei soldi, non perché sia una truffa, ma perché il progetto non va a buon fine. Abbiamo visto che la maggior parte delle ICO, dicevamo nel video dell'altro giorno, fallisce entro pochi mesi. Quindi di nuovo attenzione quando investite in questi tipi di nuove monete al lancio. Buone notizie invece per i videogiocatori. Finalmente, finalmente il prezzo delle GPU, quindi delle schede video, sta precipitando. Era salito a livelli record inaccessibili per molti videogiocatori appassionati, proprio a causa del fatto che i criptominatori le stavano comprando a carriolate per minare Bitcoin e tutte le altre monete. Con il fatto che l'interesse per le criptovalute sta scendendo, ci sono sempre meno schede video acquistate e quindi di conseguenza i prezzi iniziano a scendere. Questa è una buona notizia per chi è interessato ad acquistare una nuova GPU. Un'altra buona notizia, fatta attenzione perché con il fatto che appunto molti minatori stanno sospendendo l'acquisto di GPU, ce ne saranno anche moltissimi altri che inizieranno ad inondare il mercato con le proprie GPU usate. GPU che magari sono in ottime condizioni, ma proprio perché le utilizzavano non tanto per attività gaming o computing, ma semplicemente per fare mining, che ora con le GPU è diventato sempre meno redditizio, hanno deciso di liberarsene per rientrare un pochino dell'investimento iniziale. Quindi se state valutando di aggiungere oppure aggiornare la GPU, la scheda video del vostro computer, fate attenzione e guardate anche un pochino sui vari eBay e Amazon se ci sono delle offerte per l'usato, perché potrebbero trovarsi in giro delle schede video della Madonna, anche magari di fascia molto alta, a prezzi estremamente interessanti semplicemente perché sono state usate. Un'altra notizia, non tanto positiva, riguarda appunto uno studio di Kaspersky Lab che ha rilevato che sono stati rubati oltre 10 milioni di Ethereum nell'ultimo anno tramite social engineering tricks. Quindi che cosa significa? Che non sono state violate i software, ma i criminali fanno leva appunto sull'utente per farsi inviare volontariamente delle criptovalute. In particolare si parla di appunto la possibilità di offrire, i truffatori realizzano dei siti nel quale promettono di lancio di una nuova ICO, di nuovo le ICO sono pericolose, ma poi in realtà rubano tutto quanto perché in realtà non sono veri ICO, ma sono solo siti tra bocchetto che magari cercano di coprirsi di interesse proponendo una delle ICO molto in vigore nel momento in cui viene lanciata questa trappola. L'altra truffa, pare incredibile, se qualcuno veramente che riesce ad abboccare, è il falso cryptocurrency giveaway. Come funziona? Che ci sono moltissimi truffatori che fanno dei finti profili di Elon Musk, John McAfee, addirittura di Vitalik o Charlie Lee, tutti appunto i grandi figuri del mondo cripto oppure della tecnologia, e dicono mandatemi un Ethereum che ve ne mando indietro 10. Ovviamente non sono veramente loro e si tratta di una truffa. La cosa è abbastanza palese, ma secondo quanto appunto riportato da Kaspersky Lab c'è un sacco di gente che ci casca ancora. Quindi mi raccomando, occhi aperti ragazzi e nessuno ci regala criptovalute se non negli airdrop e comunque sono sempre molto ridotti. Quindi attenzione quando ho fatto questo tipo di operazioni. È arrivata anche un'altra sparata del giorno, non passa giornata senza qualcuno non ne faccia una di queste previsioni e si parla appunto che l'industria delle telecomunicazioni investirà appunto un miliardo di dollari entro il 2023 per investimenti in blockchain. Ovviamente c'è uno studio dietro la previsione di prezzo ovviamente lascia sempre un pochino il mercato che lascia sempre un po' il tempo che trova per quanto riguarda questi prezzi. Ovviamente se così fosse entro il 2023 ecco che il prezzo di Bitcoin e di tutte le altre criptovalute se si arrivasse veramente a questo tipo di investimenti crescerebbe moltissimo e tutti ce lo auguriamo. Ok, un'altra notizia per Sirin Labs è una criptovaluta che gli amici mi hanno segnalato spesso nei commenti grazie ragazzi che mi segnalate le criptovalute che non conosco di fatto se ne è parlato molto l'anno scorso stanno lanciando un proprio smartphone con un proprio sistema operativo che funziona su blockchain e funziona anche un po' da portafoglio. Ecco appunto Sirin Labs ha annunciato che lanceranno il Finni quindi la seconda generazione del proprio telefono entro qualche tempo quindi chi è interessato a questo prodotto dia un'occhiata. Ancora una buona notizia viene invece da Opera Opera il browser per Android e PC e telefonini vari ha appunto annunciato e rilasciato una nuova versione che permette oltre a navigare il web come da solito permette di fare opera anche di gestire le proprie criptovalute direttamente sullo smartphone. In questo momento il link di download è stato ritirato perché probabilmente gli è scappato il software un po' prima che fosse tutto pronto però dovrebbe tornare disponibile prima. È una bellissima notizia perché va nella direzione di semplificare la gestione delle criptovalute che nel mio video di alcuni mesi fa dicevo essere uno degli ostacoli per l'adozione appunto su larga scala e quindi uno dei motivi per cui ritengo che il prezzo ritenevo alcuni mesi fa che il prezzo del tutto il mercato delle criptovalute fosse pompato ai limiti della definizione di bolla speculativa. Quindi buona notizia per Opera. Cattiva notizia invece per Coinbase perché la app per telefonino è uscita, è arrivata appunto in quarantesima posizione all'interno delle classifiche delle app più scaricate per smartphone. Quindi è ritornata nelle posizioni che occupava ai livelli di aprile 2017. Questo è in netto contrasto con quello che era successo lo scorso dicembre in cui l'applicazione di Coinbase per smartphone ed intorni era appunto salita alle prime posizioni. Ci ricorda anche l'articolo di Cointelegraph che Coinbase comunque continua ad andare molto forte perché ha una valutazione di 8 miliardi di dollari appunto è raggiunto questo livello quando invece l'anno scorso in questo periodo era a 1,6 miliardi. Quindi è esplosa davvero verso l'alto ovviamente Coinbase il portale per acquistare criptovalute con euro e dollari continua ad andare molto forte nonostante questo segnale di precipitazione insomma di caduta in posizione appunto dell'app di Coinbase fra quelle più scaricate è un segnale molto forte che c'è sicuramente una discesa come abbiamo visto anche l'altro giorno guardando i dati sul traffico dell'interesse per il pubblico retail nei confronti delle criptovalute bene da zanediturbolub.it è tutto questo era il video di venerdì 12 luglio quindi vi auguro un buonissimo weekend e ci rivediamo lunedì con le ultime notizie sulle criptovalute come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di fare mi piace qui sotto per me è molto molto importante quindi vi ringrazio in anticipo se lo farete come al solito se volete essere informati ogni volta che esce un mio nuovo video ricordatevi di cliccare sul pulsante iscriviti rosso qui sotto e anche sulla campanella piccola che gli sta di fianco bene al prossimo video ciao ciao